Come ancora, il corso era la prima parte di Piemonte che avevano le lezioni nel 7 giugno del 2024. E' stata la curazione del lavoro. Il primo che aveva fatto il lavoro su WhatsApp era stato il dottor Carlo. Viene qui, molto vien, vien. Fumare la curazione. Aventava vi ter e accent, anche se regole a queste accent, osea, ponerle in los acentos, in queste parole, le regole che parlano. Prima regola, qualche parola, qualche parola, ha un aviso. E' che rompere il diptongo, qui. Avisse, la gente aveva scritto, si ha finito, par vocal. Come? Pata nu, pensare. Pensare, che vuol dire pensare, no? Ancima due. Ancima le parole. Nauta ota. Se mi dite un accent, dice parole. Eh? E allora parole, greve, le graves, avevano l'accento nella penultima silaba. L'accento si scrive, se custe si, voi dire le parole, ha finito su par consonante. Come? Pericol. Eh? Vermut. Trantesim. Se scrive un accent, mi dite un vermut. E anche il primo te dice le vermut. Eh? Tre. Ancima le parole. Ancima le parole. Nauta ota. Ciamà. Es glissante. Son las esdrúculas. L'accento va sempre scritto. Come? Orfani. Parabola. Smingula. Nibula. Eh? Atenciun. Hai accent. Aventa scrivole. Eh? Teguituma. Anc la cent. E parluma l'accent diacritic. Hemos hablado sobre l'accento diacritico. Como en castellano, cuando digo te di el te. El primer, la primera te, eh? Pronombre no lleva acento. El te sustantivo lleva acento. Para distinguir, eh? L'accent diacritic ai et compiem un te. Per esempio. Aventa di. Que el di, ale bel. Di, verbo, aporta la gente. Hay que decir, que el dia es bello. Di, di. Da, da manjer al bambin. Da e da. Da verbo, da, que es preposición, da manjer al bambin, no lleva acento. Fa. Verbo hacer. As. Tu, eh? Un bel cante. E canta al fa. Fa. Sustantivo. Calé la nota musical. E allora. Atención a questi acent. Perchè? Perchè? Se vi tenen el acento. Scrivúma. Una manera. Que le nenén. Corretta. I acento. Aventa a escribirle. Quantca van a escribirte. Aventa a escribirle. 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 Siempre sobre la E Se usa molto Per esempio La diérez Hay un sonido che cambia La E Es il articolo Masculino Singular La blassa Muy a menudo Delante de dos consonantes Se transforma En sonido de la E Que es la belleza Un lindo sonido Dal Es la preposición articulada Que no es la filiada La fiata La fiata Es la chiquita La niñita O la hijita Fiatta Con doble consonante Ha va la diérez Encima le E fa Fiatta Miñita Ha va anteca La parola Ha le Ka Casa Ma Ma La letra Estrella La letra La letra La prostetica Ha sbita Perché Ha tante Consonante Tante Consonante E allora Segui tu Ma Anans E funcita Gesù l'escriviti, scriviti in una bella roba, il sole che ti scavano e dice di stare, ma ti pensi a la masnagata che ti senti. Noi stumabingam takà e anche i bujumaneng, custa speci a buzardaneng, se la lunga avarsa a piev prima della festa.